Ancora imbattibili le ragazze a Maranto. L'Arezzo calcio femminile è infatti tornato con tre punti dall'ultima trasferta del campionato in programma a Caprera. Dopo un primo tempo in cui le ragazze a Maranto hanno tenuto saldamente il controllo del gioco, senza però riuscire a concretizzare nella ripresa le reti di Paganini al 65esimo su calcio di rigore e Lorieri allo scadere con un tiro da posizione leggermente defilata hanno deciso l'incontro. Domenica prossima 5 giugno l'Arezzo chiuderà la stagione in casa contro il Fiamma Monza. L'Arezzo calcio femminile con la guida tecnica di Mister Testini e quella societaria del Presidente Anselmi già da due settimane promossa in Serie B con alcune giornate di anticipo.